I nostri titoli rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno raccolto oltre 1200 firme contro la chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Empoli e di Castelfiorentino. L'obiettivo dei grillini è quello di salvare almeno la sede empolese che dovrebbe diventare un presidio di legalità per l'intero circondario. Il servizio. Prima azione congiunta del Movimento 5 Stelle nell'Empolese Valdelsa. Una campagna informativa, quella dei grillini, accompagnata dalla raccolta firme per salvare l'ufficio del giudice di pace di Empoli che dovrebbe occuparsi anche dello smaltimento delle pratiche di quello di Castelfiorentino. Il giudice di pace deve essere salvato per lo meno per quest'anno dai comuni perché è un presidio di legalità più vicino al cittadino. Fino a 1100 euro si può fare ricorso senza l'ausilio di un avvocato, le multe, gli autovelox, tutte le violazioni del codice della strada, ma anche penale o anche altre cause fino a 5000 euro col supporto dell'avvocato. Noi abbiamo detto ma perché non la mettiamo nell'edificio delle ex poste, quello di fronte alla stazione dove dovrà venire sotto il terminal bus e sopra c'è Pubblicasa. È un edificio di proprietà del comune, è vicino ai mezzi di comunicazione, termina al basso piuttosto che alla stazione, e genera traffico. Cioè il giudice di pace tratterebbe, mettiamola così, se riunissimo tutti e due gli uffici dell'Empolese Valdezza, quello di Empoli e quello di Castelfiorentino, 5500 cause l'anno. Queste sono persone che tutti i giorni dovrebbero affluire in quel posto. Pensiamo ad un bar, a una mensa, ad un qualsiasi servizio che potrebbe pagare appunto per poter essere lì in quel luogo, se venisse sfruttato anche questa occasione. Fin qui, quanto fatto a livello locale, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno anche presentato un'interrogazione in Senato, sollevando una pregiudiziale di costituzionalità. Abbiamo presentato un'interrogazione al Senato per chiedere sostanzialmente se territori e giudici come quello di Empoli, che è un territorio importante l'Empolese Valdezza, si parla di 175 mila abitanti, compreso Montespertole, che adesso non è nella geografia giudiziaria di Empoli. Ma potrebbe essere questa l'occasione di riunirlo insieme a Castelfiorentino, insieme ad Empoli. Ci siamo presentati, abbiamo chiesto se territori importanti come il nostro, anche da un punto di vista economico, l'Empolese Valdezza produce un terzo del PIB della provincia di Firenze, questo lo dobbiamo capire e sapere. Abbiamo chiesto se questo territorio è degno di essere considerato come una sede distaccata del Tribunale di Firenze, cosa che noi crediamo fermamente. Per bloccare i liter della chiusura dell'ufficio del giudice di pace, le amministrazioni locali dovrebbero mettere a disposizione spazi e soldi, almeno per quest'anno. C'è tempo fino al prossimo lunedì, ma per il momento niente è stato fatto. Ad oggi no, che noi sappiamo no. C'è tempo fino al 29 aprile, lunedì, non è mai troppo tardi per presentare un'istanza che è fondamentale, perché questi sono quei servizi che una volta che li abbiamo persi dal territorio non torneranno mai più.